ok ci riproviamo con la GTA 3 zombie cercheremo di fare tutti i rituali e di arrivare oltre il muro del tempio ci proviamo, te Iacolo sei pronto? si non è vero speriamo di non essere la ballerina io invece questa volta voglio essere la ballerina è una persona ironica io voglio essere il mago è il mago Fonzi il mago Fonzi no il mago Fonzi è quello che tira col peju box e rompeju box è un brutto mago infatti tu porti il mago tu porti il mago no sei la ballerina sono io no che coglioni ce l'hai con me anche la ballerina ha detto non ci credo neanche la ballerina vuole essere la ballerina è talmente sfigata non ci credo metti la bestia all'inizio così lagga immensamente non c'ho pensato questa merda è tossica anch'io so costruire stronzo di un Marduk addirittura ha già digranato è una cosa importante no ho usato il polmini gator no possiamo ancora riportare il mondo alla normalità immagino troviamo un super bug e facciamo gli easterrack e io che mi aspettavo che me lo avessero corrotto la bella le mele ma la bella le mele sono una cosa bella di questo io comprei il gioco soltanto per vedere le mele bagate con lo sfondo brutto ho fatto una cosa epica e da dire che però la ballerina c'ha le battute belline un alistante perchè l'hai preso? perchè l'hai preso subito? perchè l'hai preso all'istante? quando ero in quello stato tutto era diverso e quando esagero con la birna non lo devi prendere subito non mi fa all'istante a me piace la pistolina iniziale sai perchè? perchè è un revolver a otto colpi dove li trovi i revolver a otto colpi? la magno ma sei? no non tutto c'è anche un quaderno ma porca vacca potevi anche dirmelo ero in attima sorpresa i custodi non si fermeranno non avranno pace finchè questo mondo vado a fare il rituale aspetta aspetta in questo round stiamo indietro di un round usiamo tanto la pistolina in questo round così facciamo tanti punti ok? si un attimo intendi dire che questi cadaveri sono in realtà gli abitanti della città cazzo addio punti no caledì siamo indietro di due round si si io ora corro non vado perchè entro in round 5 almeno due rituali vanno fatti le vostre mani sono sporche a regola vabbè aspetta facciamo tanti punti e usa tanta pistolina come facciamo a rimettere tutti i costodi vabbè vabbè lasciamo uno ti ricordi si da me infatti sparo solamente quando ne vedo due aspetta eh ultimo è rimasto no sembra che oggi ci siano soldi in quantità c'è un altro qui a te ce n'è uno? no no ce ne sono due ora ce n'è solo uno cacca è l'ultimo quello lì ok vado a fare eh infatti corre tienilo secchi e vado a fare rituale il piacere vai non portarmi di qua no quest'arma non vale niente senza munizioni intanto asforo un po' eh almeno no ti salvantaggio ricostruisco un po' di barriere guarda che ci sei tanto lo limite sicuro sono sempre utile ricordi dopo di aprire ok 3 2 1 ecco ecco fatto ecco fatto è un incubo sto sognando è inciampato è sempre se non inciampasse noi saremo felici ugualmente no io vivo per vederli inciampato eh mi immagino che è quell'imbranato che vive per vederli morire aiuto mai sparare ai mostri mi disorgono se ci sono davanti faccio le robe della bestia adesso vai e questo qua è stato il primo rituale pulisciato per piccare questa roba il verbo deve essere portato nel luogo sacro jug ah bello luogo sacro e poi io prendo la carmina viene a prendersi i suoi piccoli e non c'è proprio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio ok hai fatto vuoi aprire la grata poi il resto ho fatto io c'ho ancora e fai la roba dentro dentro il coso dato che ci sei apri qua giù guarda però porta via lo zombie apri qua o le macerie o di la anzi meglio di la che le macerie ok ma porta via lo zombie lo sto portando via eppure sono stato educato aperto si quella zona lì la si aperta tutta cosa fa che è la k aspetta io posso subito aprire per il bordello ah si aprivi il bordello ah facciamole tutte e due no non si può fare il tipo insieme se ce la fai sbrigati e vieni a aprire la grata almeno si fa subito anche il secondo stai portandoci sulla tabella di marca si dai dai ce la posso fare mi sa di si spero di si cosa è successo qualcuno mi ha drogato è il cappello di frank sinatra in terra eh ma frank sinatra è frank sinatra di la testa di nooo non ce l'ho fatta allora l'ammazzerò potevi aspettare che aprissi la penitura no? se le frega cazzo ci sono gli esserini o sono la prossima? che cazzo è successo? perchè vengono? ah c'è un'altra volta non so che abbiamo orizzonte ai problemi mi tocca sprecare una bestia per fare una cazzata non ci sono l'ammazzerò ho fatto un po' una cazzata eh se mi viene ehm mi ero dimenticato un demone mi sono girato me me l'ho ucciso se mi viene da una mano è anche meglio sta arrivando un demone da sé un demone addirittura come cazzo hai fatto evocare un demone? ehm ho aperto la feditura del portale mi viene da una mano Ah, sei dentro il portale, cazzo, dillo prima Eh, l'ho detto Non l'hai detto C'ho anche il video Mi muore male No, veramente, se mi viene andando male Grazie, Giacchi Che bello che mati Giacchi Non significa che sono il debito con te Ah, sto per morire Saranno 6 milioni di esserini Io c'ho la Vesper Quindi, per le api, la Vesper è la migliore Sai perché? No, dovevamo lasciare uno Faccio tutto in uno, eh Ma ce la faccio L'hai aperto per il distintivo No, per quello che devo dire Ok, fai di tutto in uno, se c'è Se ce la faccio, eh Due porti in uno Che la maledissima Dai che ce la faccio, dai che ce la faccio Grazie 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 Grazie